ciao benvenuti un nuovo video allora come avete visto dal titolo oggi voglio parlare di erborist che è un marchio di alta gamma in vendita da sephora da noi che realizza prodotti per la skin care dalla tradizione erboristica cinese quindi dovrebbero essere prodotti davvero validi per la skin care ma noi vediamo se davvero valgono il prezzo dunque tempo fa sephora ma abbiamo andato questo set composto da crema giorno crema notte e contornocchi ho messo alla prova tutto ho finito tutto ma tanto vi ho fatto le clip di tutto ed adesso vediamo se davvero vale il prezzo la prima che guardiamo è la time reverse la sto cercando crema giorno allora il bello è che sono vasetti in vetro quindi plastica vetro si può tranquillamente smaltire ed è time reverse abbiamo detto giorno eccola qui e dunque intanto il prezzo perché 50 ml viene 56 euro e 50 comunque questa qui bello il pack è davvero molto elegante vediamo cosa dice sul sito questa formulazione a base di mughetto del giappone e senza di saucera involucra va bene altra roba migliora visibilmente l'elasticità della pelle e la rende liscia e levigata e il viso ritrova lo splendore della giovinezza allora lo vediamo anche dalla clip è una crema anti età ed è che ha una texture leggera basta poco prodotto e si stende bene sul viso quindi basta poco si stende bene e assorbe molto velocemente ho però notato che poco dopo l'applicazione una volta assorbita tende a la mia pelle che è mista tendente al grasso tende a buttarla fuori proprio inizia a produrre ancora più sebo soprattutto nella zona della zona t e se l'applico proprio vado a truccarmi è tremendo è una cosa tremenda proprio ed è non è che la butta fuori però produce tanto sebo va a lucidarsi davvero molto velocemente quindi una crema che sotto il trucco io assolutamente non la consiglio non so se è per gli ingredienti anche perché non è proprio il massimo come liste ingredienti e poi si da giorno però non mi ha entusiasmato e no non mi piacerebbe una cosa che ho visto e si mi sono ricordata di dirvi di questa confezione è che è bellissima da vedere c'è proprio bella però il fatto che sia larga in fondo e stretta all'inizio devi per forza infilarci il dito non è che è una mini taglia anche quella più grande è fatta uguale è un problema che hanno riscontrato in molte ragazze devi infilare il dito proprio tutto non lo puoi prendere con il polpastello deve più infilarci il dito dentro va sotto le unghie subito e non è neanche troppo igienica e scomoda ci vorrebbe una spatolina diciamo che per un marchio così costoso una spatolina ci starebbe niente e la crema giorno non mi ha entusiasmato per questo perché oltretutto mi va a lucidare tantissimo la pelle la metto alla sera l'ho usata finendo alla sera però non è il suo uso veniamo adesso alla crema notte eccola qua che è con la confezione identica se non fosse per la scritta la crema notte 50 ml 59 euro e 50 ma andiamo a leggere sul sito che cosa dice della descrizione e guardiamo dice che possiede una texture ricca e avvolgente aiuta a ridurre le rughe e i segni di espressione e a mantenere il tono e la siccità della pelle che ritrova morbidezza luce e compattezza ok i miracoli dunque non parto a dirvi subito il fatto della confezione perché già lo sappiamo è come l'altra ma a differenza di quella giorno questa mi è piaciuta cioè mantiene quello che dice è più ricca lo vedete anche dalla clip ha una texture più ricca più corposa ne basta pochina ne si applica bene sul viso assorbe abbastanza velocemente non mi unge la pelle non è di notte non mi dà problemi ed è assorbe tranquillamente non me la unge non me la lucida mi sono trovata bene questa sicuramente poi ha un profumo anche più fresco l'altra non aveva quasi profumo questo ha un profumo comunque sia più fresco e mi è piaciuta che altro dire non mi ricordo più perché sono stata interrotta nel mentre potere dell'editing ma comunque sia mi è piaciuta questa sicuramente mi è piaciuta molto di più rispetto a quella giorno ecco unica cosa erborist quindi erboristeria vegetale tutto quello green guardate la lista ingredienti non è proprio così non è proprio che il nome e il marchio non sono mai quello che è realmente però è davvero bello e però noi non siamo arrivati alla fine perché c'è anche il contorno occhi e sapete che io gli provo tutti i contorno occhi possibili dunque questa è sempre la time reverse sempre crema contorno occhi anti età sarà vero chi lo sa contro il segno del tempo intanto vi dico che il 15 ml viene 53 euro e 50 ma adesso andiamo a vedere se forà cosa ci dice per i contorno occhi e questo è quello che mi fa ridere un po di più perché rassoda la pelle sottile dei contorno occhi mentre restituisce giovinezza allo sguardo e fino qui ci sta poi dice il tuo sguardo si risveglia e la bellezza del tuo viso è sublimata subli sublimata e vabbè potere del marketing ci sta ma noi guardiamo davvero se è funzionato questo prodotto che è il più importante dunque prima di tutto l'inci perché tra tutti e tre i prodotti questo è quello che ha l'inci migliore mi piace non ha silicone non ha anche la profumazione delicatissima quasi inesistente quindi su questo piano ci stiamo scusate non ve l'ho neanche fatto vedere però è un applicatore classico la texture è leggera leggerissima ed è basta pochissimo prodotto ma lo vedete dalla clip pochissima appena appena si picchietta assorbe immediatamente ha un buon potere idratante quindi lascia il contorno occhi bello idratato ottimo per prevenire le rughette i segni del tempo ma attenzione l'idratazione è importante per lasciare elasticità alla pelle e quindi a prevenire le rughe se ci sono già non può un prodotto cosmetico fare miracoli comunque salve velocemente non crea problemi ottimo anche come base make up ottimo anche alla sera questo tra tutti i tre prodotti sinceramente è quello che mi è piaciuto di più allora dunque arrivati alla conclusione di questo video vediamo che è un marchio di alta gamma perché ha i prezzi davvero molto alti per una linea che si ricorda l'erboristeria le erbe il verde ma guardando l'inci guardandolo bene non ha proprio tutto questo verde certo c'è di peggio sicuramente ma ci sono anche molti prodotti migliori sicuramente quello che vi consiglio di più è il contorno occhi che non fa miracoli ma è valido con un buon inci certo ha un prezzo molto alto però mantiene le promesse certo non quante volte ho detto certo in questo video contattali fatemelo sapere nel commento qui sotto dunque lo sguardo si risveglia sì perché è una texture leggera in gel abbastanza fresco l'avete visto dalla clip però il fatto che la bellezza del tuo viso è sublimata è il grande potere del marketing ma fino a qua ci siamo crema notte ricca idratante non unge lascia la pelle idratata buona sicuramente crema giorno non adatta alla mia tipo di pelle davvero e non so perché le altre due così bene questa proprio no forse per una pelle secca però a questo punto le altre due sarebbero troppo blande è un set un po' sbilanciato per questo la crema giorno assolutamente no le altre due sì però ora sono curiosa di sapere da voi nei commenti se avete provato questi prodotti da qualche parte anche solo in mini sites come quelle che hanno mandato a me come siete trovate se vi ispira se vi ho fatto scoprire comunque un prodotto nuovo in vendita da Sephora se vi ho tenuto compagnia e mi raccomando di lasciare un commento qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ehi vi ricordate di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao ciao